Il Messina comunque onore il campionato fino al termine, battendo in casa l'Agregas la settimana successiva con le reti di Schillaci e Catalano. Qui raccoglie la respinta del portiere dopo un tiro di caccia dal limite. Ancora caccia ispiratore di tutte le manovre offensive del Messina, lancia Mancuso che viene atterrato dagli 11 metri, ci pensa Catalano. E se ancora...